Ciao a tutti, io sono Kree e bentornati su War Robots! Come vedete ho fatto delle modifiche al team, ci sono due nuovi robot, Sheriff Demeter e Crysis. Ora, Crysis lo vedremo in un video a parte. Oggi ci concentreremo su Demeter. Perché ho messo un Demeter nel team? Cos'è che fa Demeter? Demeter è un healer e già per questo è interessante perché oggi healer in giro non se ne vedono. Secondo me è l'unico healer giocabile nel gioco, a parte ovviamente Ultimate Bender. Come abilità a Repairing Cover. Cosa fa questa abilità? Dà un absorber a Demeter, gli permette di teletrasportarsi su un compagno che sta entro i 500 metri di distanza, il che può essere utilizzato molto strategicamente magari per avvicinarsi a un avversario o per scappare quando ce n'è bisogno. E in più si cura. Cura se stesso e compagni nelle vicinanze. Il che ovviamente lo rende perfetto con le build con phase shift, curandosi già non ha bisogno di un'altra cura, anche se è giocabile anche con cura eh. Aver due cure non è male. Purtroppo la sua abilità si ricarica una volta ogni 20 secondi, 18 con il potenziamento attacco. Però può essere davvero difficile tirar giù un Demeter mentre ha l'abilità attiva. Come army ci ho messo degli Spike. Allora, secondo me Demeter è meglio quando utilizzato come supporter dalla media distanza, magari con degli Hazard. Però come supporter dalla media distanza io ho Jarfi, ho Siren, poi c'è Crysis che snipera. Ok, Skyros attacca dalla breve distanza però Skyros attacca tra virgolette perché sta sempre nella forma palla. Insomma, ho deciso di metterci Demeter. Spike sono interessanti perché sono delle armi che danno uno scudo a Aegis extra che si ricarica nel tempo. Sì, magari fanno meno danno rispetto a degli Avok, nonostante attaccano da 150 metri in giù. Però in più danno anche Shield Break. Insomma, con tutti quanti i robot che hanno scudi a Aegis, scudi Absorber, mi sembra interessante. Meglio ancora se utilizzato con questo drone. Il Big Drone, un drone che a realtà non si vede molto spesso, ma con i robot che hanno gli scudi a Aegis è perfetto. Perché ha questa abilità. Al primo hit ricevi Stealth per 3 secondi. Ora, sarebbe un pochettino brutto ricevere Stealth al primo colpo vagante che ricevi. Però se tu ci metti sopra una cupola, come uno scudo a Aegis, già diventa più fattibile da utilizzare. Perché il primo hit non è davvero il primo hit. Prima devo romperti lo scudo. E inoltre, anche un secondo Stealth, se riceviamo 100.000 danni in 3 secondi. È sempre uno Stealth di 3 secondi, quando si migliora il drone a livello 12. Ed ha un tempo di recupero di 30 secondi, quindi non è spammabile. Però è sempre della protezione in più. Insomma, così ci ritroviamo con un robot che ha uno scudo a Aegis, un Absorber, Stealth, Last Hand, Face Shift, la cura. Insomma, sono tante cose messe insieme e diventa davvero difficile tirarlo giù. Ah, inoltre, siccome non è abbastanza resistente così, gli ho dato anche questo pilota qua. Ci sono due piloti per Demeter. Uno che gli fa fare più danni ogni volta che usa la sua abilità. E poi c'è questo qui che cura i danni grigi. Per la build che sto facendo io, mi pareva più interessante questo, perché voglio fare questo Demeter il più bulky possibile. Sarebbe ancora più interessante se riuscissi a mettere le mani su un Immune Amplifier. Perché Immune Amplifier più subisci danni, più aumenta la tua resistenza. Sul robot che cura danni grigi. Insomma, è un po' più. A proposito di moduli. Attualmente sto utilizzando su Demeter un Last Hand, Repair Amplifier e Nuclear Amplifier. Il tutto con Face Shift. Molto importante perché non abbiamo anti-control. Se ci loccano, dobbiamo usare Face Shift per toglierci l'effetto negativo. E siccome un Face Shift non mi bastava, ho messo anche l'abilità del pilota che ricarica Face Shift quando raggiungiamo il 50% di vita. sapete, una protezione in più non mi fa male. Se vedete che sto sbloccando tante abilità di questo pilota, è perché ci voglio lavorare un po' su su questo robot. Se io trovassi un Immune Amplifier lo metterei al posto di Repair Amplifier e non al posto di Last Hand. E voi direte, e come fa a curarti? Beh, prima di tutto c'è l'abilità del robot. E poi esiste anche l'abilità meccanico da mettere sul pilota, che mi dà già una cura costante. Sì, lo so, Repair Amplifier cura di più di meccanico. Però, secondo me, l'abilità di Demeter e l'abilità del pilota potrebbero essere già abbastanza per la cura di questo robot. Ora, molti di voi si stanno chiedendo, ma Chris, se Big Drone è così forte su Demeter, perché non l'ha ancora migliorato? Se hai già le risorse necessarie, perché l'hai tenuto a livello 1? Beh, la risposta è molto semplice, perché c'è una scelta migliore. L'hanno aggiunto di recente nelle chest da mille chiavi e l'ho provato anche sul test server. Sto parlando di Seeker Drone. Dovete capire che sì, Stealth è forte, però Stealth viene counterato da tante cose. Prima di tutto c'è l'insco Stake, che con il pilota ignora Stealth e con le armi ignora gli scudi energetici. E poi ci sono anche le armi elettriche di Shellu che danno molto fastidio. Seeker Drone semplicemente è una scelta migliore. Si rinuncia a Stealth ma si ottiene un quantum sensor. Possiamo vedere gli avversari attraverso Stealth dai 350 metri in giù. Insomma, è fatto apposta per i robot che attaccano dalla breve distanza. Ora, voi leggete 240 metri, ma 240 metri è per un Seeker Drone di livello 1. Per un Seeker Drone a livello 12 sono 350 metri. Ciò non vuol dire che Seeker Drone è inutile in difesa. Ok, rinunciamo a Stealth però otteniamo più durabilità sugli scudi energetici, quindi più 10% di resistenza extra e più 10% di resistenza sugli scudi a Aegis che ci danno le armi. E in più abbiamo Counter Surpression per chi ci attacca sotto i 350 metri e Blindness per chi ci attacca sopra i 600 metri di distanza. Adesso, questi effetti hanno un tempo di ricarica. A differenza di Stealth che applichiamo sul nostro robot, questi effetti vengono applicati sul robot avversario, quindi su un solo robot, non su tutti quanti i robot in campo. Se più robot ti attaccano contemporaneamente, non metti Suppression e Blindness su tutti i robot. Sarebbe troppo Pia, altrimenti tutti quanti useremo questo drone. Però, ciò non toglie che è un drone davvero molto forte e sono contento che l'hanno reso disponibile free to player. Poi, trovarlo non sarà facile. Ci vorrà molta pazienza. Ci sono altre cose che potrei dire su Demeter, ma per il momento direi che può andar bene così. Non vi voglio far esplodere la testa. Non avendo mai migliorato Big Drone a livello 12 e non avendo mai trovato Seeker Drone, per questo video ci accontenteremo di un Glider Drone. Glider Drone è il drone che utilizzo di solito su Skyros, ma va bene per qualsiasi robot che ha Faceshift. Quindi, per questa volta ci dovremo accontentare. Skyros starà senza drone, insomma. Altre modifiche che sto facendo al team, sto migliorando le armi di Arfi, sto portando tutto quanto al 12, e direi che tra avere le armi a livello 7 e le armi a livello 12 la differenza si sente, eh? Ho cambiato il Drone a Siren, ho avuto la fortuna di trovare un Drone Paralysis, che è molto meglio di Daltoki. Sì, a realtà Daltoki è già un drone abbastanza buono su Siren, però ci sono tre motivi per il quale preferisco il Drone Paralysis. Prima di tutto, Daltoki è buono solo a livello 12, mentre invece Paralysis è buono anche a livello 4, quindi sono più microchip da spendere. Poi, l'abilità di Daltoki si attiva soltanto se usate le celle di energia, quindi ha un costo, e poi il lockdown è bello. Impedite ai nemici di andare dietro le coperture, e in più potete utilizzarlo anche come difesa verso chi si avvicina troppo pericolosamente. Sapete, Siren è un robot fragile, mentre la sua abilità non è attiva, bisogna fare attenzione. Bene, è stata una presentazione molto lunga, come vi ho detto, non vi voglio dire nulla su Crysis, lo verremo in un altro video. Andiamo a cercare una partita! Dai! Solita modalità dominazione, e vediamo come funziona questo Demeter. Bene, partita trovata! Demeter in campo, voglio essere sincero con voi, questa partita andrà bene o male a seconda di quanti Raptor, Curi, Shelly hanno i nostri avversari, perché giocare in legge alte è così. Non dipende da quanto tu giochi bene, perché io ho dei robot MK1, cioè Demeter è buono, ma, qual è il robot che a livello MK1 fa bene contro Raptor MK3? Nessuno! Andiamo ad aiutare lì! Oh, si è aperto questo Skyros! Dai, qualche dannetto lo facciamo, però questo è uno Skyros di livello alto, eh, attenzione! Eh, perché siamo in tanti, prendeva pochissimi danni dalle nostre armi, e noi ignoriamo gli scudi, eh! Non credo che abbia avuto tempo di staccare un eventuale drone armadillo. Vabbè, procediamo. Dai! Anche questo Shell sembra essere di livello alto. Eh, non schivi, non schivi queste armi. Queste armi vanno spesso a segno, è anche un motivo per il quale le ho messe. Ora, c'è questo Dagoon, però non so se riesco ad avvicinarmi. Vabbè, dai, Shell ci aiuta. Grazie. Almeno lui si avvicina e ci avviciniamo anche noi. Di qua. Qualcuno ha shield break? No, non ci arrivo. Eh, vabbè. Sì, ora ci arrivo. Però ci sta attaccando anche qualcun altro, male. Eh, IMP. IMP ha un'abilità molto forte. IMP ha un'abilità molto forte. Non so chi ce l'ha messa addosso. Probabilmente non Dagoon, non credo. Se ce l'ha messa addosso Dagoon è con il drone, ma... Non lo so. Io white out Dagoon con delle armi che attaccano da una media distanza. Non me lo vedo bene. Bel danno. Grande Arfi. E pure kill. Si vede che lo sto migliorando, Arfi, eh. Vabbè. Ve lo assicuro. Demeter è buono. Semplicemente va livellato. Va livellato un bel po'. Per giocarlo in leghe alte. Purtroppo, secondo me, il difetto del mio team è che ho robot di livello basso. A parte Arfi, che lo sto migliorando parecchio. E però, come vedete, dipende tutto da chi si trova. Perché se trovi il Curi, MK3, poi... Attacchiamo dietro gli angoli. La vedo grigia questa partita, eh. Ci danno un po' di supporto qua. Però non è facile, eh. Lockdown? No, anche stealth. Stealth. Riesco a tirarlo giù, lui? Non riesco a tirarlo giù perché mi fanno fuori prima. Vabbè, vai Siren. Siren, dai. No, stavo dicendo. Finisci quello che è iniziato, ma... Troppo tardi. Se lui si scoprisse un pochettino... Stealth, buono. Questa è una leggenda vivente, quindi mi aspetto anche qua al robot MK3. Dai, aiutiamo il mio compagno. Freeze, tra l'altro, ha anche un'abilità che dà supporto. Mmm. Mmm. Aia. Abbiamo retto, ma... Eh, sì. Sta andando particolarmente male questa partita. Purtroppo c'è questo Curi qua che... Ormai ci spawn killa. Io devo usare immediatamente il mio reflector. È morto, però controllano troppi raggi. Male. Un'altra kill, però. Due kill le abbiamo fatte. Eh, queste sono le leghe alte. Siete lega maestri, siete lega campioni. Le partite sono tutte così. E io personalmente non voglio combattere Rook... ...dalla breve distanza con quelle armi. Mmm, no, grazie. Se vuoi andare a prendere quel raggio, vai. Io intanto vado a prendere questo. Dai, lo stanno attaccando in tanti. Non ci guarda, noi. Meglio così. Quanto vorrei avere i tatare per amplifier per il mio Luciador. Dai, cattura questo raggio. Quanto tempo ci vuole? Mamma mia. Eh. Oh! Stiamo recuperando? Seriamente? Entrano in campo i titani? I nostri titani sono più forti. A parte questo Rook. Che fa fatica a venire giù. Se riuscissimo a prendere questo raggio... Eh, ma la vedo dura, eh. Lui può fare tanti danni ai titani. Avrei bisogno che non mi guardi. Eh, c'è uno qua che campera. No, si teletrasporta via. E allora... Catturiamo il raggio. Io non stavo attaccando in questo momento perché non volevo che si girasse verso di me. Chi è che mi sta facendo tutti sti danni? Ah, ecco qui. Un altro Curi. Ma dai. L'avreste mai detto? Sono sempre questi robot. Perché contro i robot normali, a direi età, ce la caviamo anche. Verrà nelfato prima o poi, Curi. Però... Al momento è abbastanza illegale. Skyros! L'unico robot che normalmente farebbe qualcosa... Nel senso, riesce a sopravvivere tre secondi in più. Attenzione a lui. Dai, spara. Eh, volevi! No, non puoi. Citazione famosa. Vabbè, questo raggio lo catturiamo. Il problema è che... Mi sa che qua la partita è finita. Eh... Sì, i danni di Curi li reggiamo. Aia! Me ne stavo dimenticando di lui. Avrei dovuto aspettare che si ricaricasse Face Shift. Non che sarebbe cambiato qualcosa, eh. Comunque persa. Diciamo che abbiamo regalato una kill. Allora, siamo arrivati quinti. Il risultato non è proprio bellissimo. Però io vi dico che in questa partita c'erano 10 giocatori su 12 di Lega Campioni. Io sono di Lega Maestri 1. Sono riuscito di recente a raggiungere una volta la Lega Campioni, ma poi sono stato immediatamente declassato. Devo liberare il team. Se voglio raggiungere definitivamente la Lega Campioni, devo livellare il team. Quella è la risposta giusta. Poi Demeter, una volta che troveremo anche il drone giusto, riuscirà a fare meglio. Cerchiamo un'altra partita. Oh, questa mappa mi piace tantissimo. Io vi dirò, Moon è la mia mappa preferita. Perché? Perché non ci sono sniper. Ehm, perché c'è un Crisis Reaper in campo in questa mappa? E perché nel nostro team? Questo è impazzito. Cioè, vuole esare Crisis qua? Non mi pare una grande scelta, eh. Questo Demeter è più veloce di noi. Vabbè. Lui giustamente usa delle armi che attaccano dalla media distanza. L'ho detto. Demeter come supporter dalla media distanza è migliore. Però, anche come Brawler se la cava. Quando ci sono tutti quanti quei robot con gli scuri se la cava. Eh no. Eh no. Mi dispiace. Non puoi. Non ce la fai. Sì, saltiamo per aria, però noi possiamo curare i danni grigi. Mmm, face shifterei, eh. Sì, face shifterei qua. Preferisco così, grazie. E poi, usare la mia abilità. No, mi son teletrasportato! Eeeh. Lui era di Lega Campione, eh. Ha già il titolo. Vabbè, ci siamo curati. Come vedete, ci siamo curati anche i danni grigi. A volte capita che ci si teletrasporta per errore. A volte capita. Però, abbiamo ancora praticamente tutta la vita. Possiamo ancora fare qualcosa. Riproviamoci. Secondo round. E lui ha attivato l'abilità prima di noi, eh. Noi abbiamo le armi che ignorano gli scudi. Face shift. Anche lui. Vediamo. Dobbiamo fare attenzione a quello che ci spara di là. Mmm, ce l'abbiamo fatta. Però io face shift di nuovo. Ok, ora siamo al sicuro. Si spera. No, ci attaccano da sopra! E dai! Neanche un momento di tregua, eh. Qua il drone aiuta parecchio. Quando ti attaccano da lontano, in questo modo, il drone aiuta. Ho la mia abilità carica. Di nuovo, arrivano Ocho Kochi. Direi di usarla. Eh, che fai Ocho Kochi senza la tua abilità? Te lo dico io che fai. Scappi! Non mi ricordo che tempo di ricarica ha Ocho Kochi. Breve, a quanto pare. Molto breve. Ed ecco un altro Demeter. Ma come mai così tanti Demeter oggi? Siamo morti. Niente. Siamo morti. Vabbè. Dai, un bel po' siamo sopravvissuti. Peccato. Anche in questo caso il drone aiutava. Perché mettere un suppression su quello Ocho Kochi... E poi, vabbè, avere un Demeter, magari... MK3, anche quello avrebbe aiutato. Però... Noi non possiamo avere questo lusso. O almeno... Non senza tanti mesi di farming. Vediamo un po'. Arfi ora fa tanti danni, eh. Armi al 12. Mmm... Ophion! Eh... Ti vedo male. Hai Faceshift? E allora ciao. Non aveva Faceshift. Noi abbiamo anche Stealth su Arfi. Abbiamo una Clucky Unit che ci ha protetto. Vola. Chi è? Raptor? È un Raptor? Credo sia un Raptor. Sì, è lui. È lui. Lo si riconosce dal salto. Double kill! Anche la kill su Raptor! Raptor bisogna attaccarlo quando non ha l'abilità attiva. Perché lì prende tanti danni. I livelli contano sempre. Certo. Anche il fatto che stavamo attaccando tutti insieme lo stesso avversario... Sicuramente aiuta. Io preferisco far fuori prima il Demeter, però. E mi sa che non ce la facciamo, eh. Ho le armi scariche. Ci stanno attaccando in tanti. Ora entriamo con il nostro Titano. Il nostro Titano è terribile. Io ho paura che si perda anche qua, eh. Vi dirò. Purtroppo il mio Titano è terribile. Perché niente Titan Ray per Amplifier. Niente armi decenti. Ottenere armi per Titano buone oggi... È un'impresa titanica. Per davvero. Neanche farla apposta. Eh. Le armi soniche sono molto buone su Luciador. Ma... Devi sperare di trovare... Cosa? Sono tipo... Sei armi in mezzo a 95 premi nella chest da mille. Dico... No, quattro armi. Sono quattro armi. Perché ci sono Evora, Stellar Evora, Vyron, Stellar Vyron. Vabbè. Io salto giusto per coprire le supporter. Abbiamo un po' di desistenza in più rispetto a lui. Non contro chi si teletrasporta, ahimè. Ti posso aiutare così? Eh... Non gli faccio nulla. E almeno girati però ad attaccarlo. Cioè, non si accorge che lo stanno attaccando. Mmm... IMP... IMP è fortissima come abilità. Cioè... È incounterabile. Neanche con anti-control puoi. Oh, però ha retto bene, eh. Lui è di livello alto, secondo me. Per reggere così bene... Uno Shellu. Io non avrei retto così bene con un Luciador. E Luciador... Normalmente... È più vulchi di... Lui. Nodens. Ecco. Non mi veniva in mente il nome di questo titano. Addirittura! Ha preso la kill. Beh. Complimenti. Davvero. La vendetta. Eccolo qua che torna. Io ti metto suppression addosso. C'è l'anti-control. Beh, sull'anti-control è buono, eh. Avrebbe pure senso. E perde. Sapete che la ribaltiamo? La ribaltiamo. Non riescono a catturare raggi. Sono rimasti in tre. Ma per quanto poco. Non grazie a noi. Ammetto. Purtroppo... Non l'abbiamo ribaltata. Grazie al nostro contributo. Però... È finita qua, eh. Non riescono neanche a lasciare lo spawn. Chi è che è rimasto? Ah, giustamente. Sono rimasti tanti robot belli. Dove vuole andare lui? Va che ti stiamo guardando, eh. Non fa in tempo. Non fa neanche in tempo. Ehi, GG. Complimenti al mio team. Che devo dire? Per una volta ho trovato un team buono. 13 milioni di danni il nostro primo. Titolo, ex macchina. Insomma, abbiamo trovato un compagno molto forte. Per questo abbiamo vinto. Come vedete, quando si trova il Raptor, lo Shell, il Pipe Finder e altri Robot Ultimate come compagni, si riesce a vincere ogni partita. Gli avversari hanno giocato bene, però non hanno scioppato abbastanza, a quanto pare. Detto questo, io vi dico che per questo video è tutto. Ammetto che Demeter non ha brillato, però un giorno si riprenderà la sua revincita. Ve lo posso assicurare. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi, attivate la campanellina per sapere quando escono nuovi video e seguitemi se su Twitter che su Facebook trovate il link in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Ma per oggi è tutto. Vi saluto. Ciao! Ciao!